L'idrosadenite suppurativa è una malattia che sta aumentando, un tempo si riteneva che fosse rara, oggi sappiamo che non lo è, anzi addirittura colpisce, si è calcolato 3 italiani su 100, quindi una malattia non rara ma una malattia complessa e con tanti diciamo fenotipi diversi, noi per fenotipi intendiamo presentazioni diverse di malattia, la malattia caratteristicamente si presenta con lesioni che sono noduli, infiammatori o non infiammatori, cisti, ascessi fino alle lesioni più gravi che sono dei tragitti fistolosi che colpiscono tipicamente certe sedi, colpiscono gli inguini, le ascelle, la regione anogenitale e questo può far capire facilmente l'impatto sulla qualità della vita dei pazienti, soprattutto nei casi più gravi di malattia. Esiste poi una variante che si chiama sindromica che è particolarmente rara e particolarmente grave. Diciamo che si sta lavorando tanto su questa malattia sia dal punto di vista scientifico per definire i meccanismi patogenetici, cioè i meccanismi alla base della formazione della malattia, dell'infiammazione che si associa alla malattia sia dal punto di vista ovviamente delle terapie perché poi il fine ultimo è quello di avere dei farmaci sempre più efficaci, più selettivi e più specifici, quella che in futuro sarà la terapia personalizzata, cioè una terapia adeguata proprio e foggiata come un abito su misura per il singolo paziente. Quindi sostanzialmente diciamo trial, cioè studi sui farmaci, ci sono in corso su diversi farmaci biologici. Ricordo che il farmaco biologico è un farmaco appunto selettivo perché va a colpire una certa citochina. La citochina è una molecola effettrice che è responsabile della patologia. Non è una sola, ce ne sono tante con la difficoltà appunto di curare questa malattia. Questa malattia c'è una base anche genetica e noi stiamo studiando anche la genetica di questi soggetti. Quindi è una malattia diciamo molto interessante da un punto di vista così dermatologico, medico per la complessità dei meccanismi di formazione, ma noi siamo soprattutto per il paziente per cercare di curarlo al meglio. Anche la chirurgia ha una sua efficacia, andiamo appunto dall'epilazione laser perché la malattia colpisce elettivamente i follicoli piliferi, quindi diciamo un'epilazione laser può agire in senso preventivo per arrivare poi alla chirurgia diciamo per risolvere un ascesso piuttosto che alla chirurgia aggressiva per ribuovere delle aree ampie appunto di tessuto danneggiato dall'infiammazione. Questo approccio, quello chirurgico, si può anche combinare con i nuovi farmaci biologici. Ripeto, per fortuna la malattia non è sempre grave, nella maggioranza dei casi è lieve, ma lo stesso va gestito bene perché immaginiamo una cisti, un ricorrente, un nodulo infiammatorio a livello inguinale in una giovane donna, quanto possa comportare in termini di qualità della vita e di vita di relazione.